E io ti parlo a tua cosiddetta, sto a me e mezzo! Sto a me e spazio! Pizzeria? Quante? Cinque minuti e sono da lei! Pizzeria? Che piano? E' un panetto! Qua fanno le pizze... all'ananas! 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 Ma come è la pizza con l'ananas? Ma chiusi che... All'ananas! Questo è il mio Paese di pizza, che pizza mangiamo tutti i suoi! Ma cosa no? A pizza che ho ordinato. Cosa non ho la che ho ordinato. Tu pizza la rinaca! Magherita e marina! A questa non ho la mancherita! Sono il tuo mangiatore di pizza! Ma sempre loro gli americani! A Milano sta spundando! E anche adesso no! Ci si balla le reggaeton, e si mangia la sushi, e poi in poi mangia la pizza di marina! E io continuo a ballare le taranteta e continuo a mangiare margarita e marina! Questo è prima in seconda il frutto! ma vuole prima o seconda? 15 euro e basta che te ne fanno io dietro mi fa soltanto ma mi cacciano dal locale ma non mi interessi come mi dà come ti dico come stanno? non faccio buonanotte adesso bruci i grassi assaggia non fai schifo pure all'aprevo assaggia carmi sto a me in mezzo ti devi andare ti devi andare ti devi andare uno scherzo uno scherzo uno scherzo va a fare carne e pizza c'è una lega grazie fa una presa in giù se no voi mi maniate buio così stai assaggiando faccio